Non c'è niente. Anche invece, guarda bene, come vedi ora sono nel mio stato normale. Adesso sono un Super Saiyan. Mentre questo... Guardalo bene, questo è il guerriero Super Saiyan che ha oltrepassato il limite. E si chiama Super Saiyan di secondo livello. Ehi, che razza di trasformazione è? Io non vedo nessuna differenza. Supererò il limite del Super Saiyan secondo livello! No, no, smettila, Goku. Se continui così sprecherai minuti preziosi, ma è mai possibile che tu non lo capisca? Il tuo tempo sulla Terra ha un limite, te lo sei scordato! È impressionante! Basta così! Adesso fermati, Goku! Uno strano fenomeno si sta! Ma cosa? È come se la Terra stesse andando in frantumi! Questa mi sembra che sia l'energia di Goku! Eppure è così lontano! E cosa sta succedendo qui? Ehi-ha! Sì. Non te l'aspettare. Trema, trema. E questo è il Super Saiyan di terzo livello. Mi dispiace di avervi fatto aspettare un po'. Sapete, anch'io non mi...